Siamo qui da Equip Solution, agenzia immobiliare di Bergamo, attiva da oltre 20 anni, punto di riferimento non solo in città, perché acquista e vende immobili di ogni tipo. Signor Francesco Casadoro, l'esperienza fa sempre la differenza, ma oggi è cambiato il ruolo dell'agente immobiliare? Negli ultimi 10 anni il ruolo dell'agente immobiliare è cambiato, più serio, più professionale, più attento alle esigenze del cliente. Prima era molto più superficiale, si accompagnava il cliente a vederla a casa e finiva la sua attività. Ad oggi invece ci deve essere una struttura, un'organizzazione tale che permetta sia l'acquirente che il venditore di soddisfare le proprie esigenze di acquisto o di vendita. Oggi si fa più fatica a vendere che non ad acquistare casa, come mai e qual è la soluzione? È verissimo che oggi il mercato è saturo, ci sono tantissimi immobili in vendita. È altrettanto vero che ci sono anche molti acquirenti bisognosi di acquistare casa. Il consiglio che posso dare è quello di affidarsi a una struttura, un'organizzazione, un'agenzia immobiliare che permetta di soddisfare le proprie esigenze di vendita, attraverso comunque servizi che possono essere il web, servizi fotografici, con droni, con professionisti e con una pubblicità che anche a livello cartacea deve essere comunque importante. L'investimento pubblicitario deve essere comunque la base della vendita dell'immobile. Ad affiancare Casa d'Oro alla guida di Keep Solutions c'è Giovanni Spinelli, a cui chiediamo i rischi legati al fai-da-te nelle fasi di compravendita di un immobile. I rischi ce ne sono. È evidente che il fai-da-te in una compravendita può sostanzialmente nascondere qualche sorpresa, qualche problema nell'immobile e quindi qualche spiacevole sorpresa sia per chi acquista e sia per chi vende, che talvolta lui per primo non è a conoscenza di qualche problematica. L'agente immobiliare è un regista, non fa altro che far intervenire e coordinare tutti gli attori che intervengono in una compravendita, notai, tecnici, geometri e quant'altro, e quindi garantisce ad acquirente e venditore il percorso più sereno per la propria compravendita. In conclusione, investire nel mattone è ancora oggi sicuro? Assolutamente sì. In concomitanza delle recenti tensioni nei mercati finanziari abbiamo riscontrato una sempre maggiore tendenza di più investitori a spostare parte o interamente il loro capitale nel mercato immobiliare. Un mercato sicuramente più tranquillo, ma che consente rendimenti interessanti nel tempo, non vedendo eroso il proprio capitale. Dopo tutti questi preziosi consigli sul mercato immobiliare ringraziamo Casodoro e Spinelli di Equip Solution di Bergamo.